Trattativa più lunga del previsto, ma alla fine la Ternana è riuscita a riportare il rossoverde Cesar Falletti. Il fantasista uruguayano classe 92 arriva con un insolito prestito biennale dal Bologna con obbligo di riscatto, al quale seguirà poi un quadriennale. Falletti ritorna a Terni dopo i 4 anni in Serie B con 128 presenze all'attivo, 17 riterializzate e 15 assist. Lucarelli però non si accontenta e vuole chiudere a stretto giro anche per Lorenzo Laverone. All'ex esterno dell'Avellino è stato offerto già un biennale. Si chiude la trattativa tra il Catania e Manuel Sarao, attaccante 31enne della Regina. 223 presenze e 48 gol tra i professionisti, Sarao ha firmato un biennale e si aggregherà oggi al gruppo. Nuovo innesto anche in casa Monopoli, che ha raggiunto l'accordo per il giovanissimo attaccante classe 2002 del Teramo, Luigi Samele, cresciuto nel settore giovanile del Bari. Punta decisamente più in alto il Palermo per rinforzare la propria mediana. I rosa-nero sono vicini a Lorenzo Lollo, centrocampista classe 92 di proprietà del Venezia. Lollo ha già vinto il campionato di Serie C con lo Spezia ed è approdato anche in Serie A col Carpi. La Turris sembra molto vicina alla definizione della trattativa per Luigi D'Ignazio, terzino classe 98, in uscita a titolo definitivo dal Napoli. Il Raibonese è invece vicinissima a ingaggiare Mohamed Laribi. Il giovane centrocampista, reduce da una stagione con la maglia della casertana, è attualmente svincolato dopo l'esclusione del Picerno. Possibile ritorno di fiamma per la casertana, i falchetti hanno sondato il terreno per Mario Marotta, attaccante 31enne la scorsa stagione all'audace Cerignola, già a Caserta nel 2016-2017. In attesa di mandare in porto la trattativa, per i campani ci sarà un assaggio di campionato già domani, con l'amichevole a porte chiuse contro la Viterbese.